Buongiorno buongiorno ragazzi, in questo nuovo video tutorial vi voglio insegnare lo squat jump knee, un esercizio veramente fantastico ma allo stesso tempo devastante che però ci permette di migliorare la forza esplosiva nelle gambe e soprattutto ci permette di andare a lavorare sulla forza elastica e anche sul lavoro in eccentrico, quindi ci aiuterà sia un violano, la forza esplosiva ma anche la forza massima. Come si esegue lo squat jump knee? Allora partiamo dalla posizione normale, stazione retta, le mani, altezza dell'ombelico, da questa posizione andiamo a fare uno squat parallelo e da qui saltiamo, torniamo le ginocchia al petto e ritorniamo tutte le volte in squat. La cosa importante su cui devi fare attenzione quando atterri con i piedi sul pavimento la prima cosa che devi fare è iniziare a attenuare la caduta e caricare lo squat, questo ti permetterà di utilizzare la forza elastica della muscolatura e subito dopo utilizzando la forza concentrica spingerti forte verso l'alto. Prima pensa a saltare in alto, una volta che hai staccato i piedi da terra e che hai spinto forte per saltare pensa ad accogliere le ginocchia al petto, questo ti permetterà di svolgere l'esercizio in modo corretto. Ti faccio rivedere altri 3 o 4 squat jump knee frontali e poi te ne faccio vedere 3 o 4 laterali così puoi vedere le varie angolazioni. Pronti? Si parte, carico e mano. E questo esercizio ti è molto importante per migliorare la forza esplosiva. Te lo faccio vedere anche lateralmente, stessa cosa cerco di spingere forte verso l'alto e poi ti raccogliere le ginocchia al petto. Scendo. E voilà! Le pulsazioni salgono subito in alto, quindi oltre a lavorare sulla forza esplosiva, sulla forza farai un lavoro anche a livello cardiaco per migliorare la tua potenza aeronica. Metti in pratica l'esercizio, fai attenzione per qualsiasi cosa, scrivimi se ti piace questo metodo di degliamento, allenarti con questi protocolli, puoi accedere al mio programma Maxom o Elite Life Plus o contattami per un piano personalizzato per migliorare le tue prestazioni, raggiungere i tuoi obiettivi ed essere seguito passo a passo allenandoti con questa metodologia di allenamento fantastico che ti permetterà di raggiungere grandi risultati. Ragazzi, ti aspetto nel prossimo video tutorial e stai com'è!